buona sera a tutti i ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di inter for passion allora 1 iscriviti al canale 2 attiva la campanella 3 qui sotto ti mettiamo tutti i link dei nostri social seguici su tutti i social perché a breve ci saranno delle grosse novità allora parliamo parliamo oggi facciamo un breve video come al mio solito non più di 45 minuti oggi voglio parlare di una dichiarazione che pare sottolineo pare perché non ho certezze in merito però pare che l'abbia fatta lautaro martinez pare che appunto abbia dichiarato che voglia andare a barcellona per giocare con messi perché così ha più probabilità di vincere la champions lautaro martinez queste parole mi ricordano qualcuno mi ricordano un altro campione che sempre di campioni stiamo parlando zingaro ma campione sto parlando di ibrahimovic ricordiamo tutti come andò a finire lui ha vinto sta ceppa e noi abbiamo vinto qualcos'altro quindi quindi se veramente e sottolineo se caro lautaro martinez hai detto una cosa del genere poi sfanculare tranquillamente io ti voglio bene sei un grande campione ma se hai detto veramente una cosa del genere sfancula e vai a giocare col tuo amico messi quindi ripeto la storia ciclica dovesse essere successa una cosa del genere sono più che contento se te ne vai dalle palle anche se io mi auguro che non sia così perché voglio dire lautaro martinez è fondamentale in questo momento per l'inter certo è che noi lo stiamo a guardare ormai le bandiere non esistono più le bandiere nel calcio non esistono tutto l'ultima nostra bandiera è stata zanetti per il resto non ne abbiamo bandiera quindi di conseguenza io sono abituato a non affezionarmi ai calciatori per me c'è sempre solo l'inter i calciatori vanno e vengono quindi non mi strapperei i capelli se dovesse andar via lautaro martinez anche perché sono certo che l'inter in questo momento abbia le possibilità di attirare di contrattualizzare come dice il nostro grande amico Dario grandi campioni quindi mettiamocelo in testa siamo davvero all'inizio di un percorso quindi è ovvio che questo percorso sarà in crescita e quindi avremo dei risultati nel tempo nel tempo bene non ho nient'altro da aggiungere oggi quindi vi ricordo social iscrivetevi al canale attiva della campanella siamo vicino ai 1000 iscritti non so come ringraziarvi perché veramente sia io che simone non ci aspettavamo di arrivare così in poco tempo a quasi 1000 iscritti però va bene così ci fa piacere vuol dire che i nostri contenuti vi piacciono quindi cercheremo di farne sempre di più questo però è un periodo particolare perché sto lavorando tantissimo però cercherò di fare anch'io più video possibile quindi vi saluto e ci vediamo il prossimo video di inter for passion Grazie a tutti